A guy today, but first of all, ragazzi, oggi ci sarà una scena epica, finalmente la nuova generazione, adesso si incazza quando lo dirò in inglese, Malena, però è nuova, si è nuova o no? Ecco, la vecchia generazione, ma non perché è vecchia, bensì una super ancora woman, bella, attrice, fortissima, per me è stata la numero uno al mondo per tutta la mia carriera, col cuore e sincero. E ti dico, ragazzi, oggi ci sarà la scena, Malena, come ti senti? Sono pronta, sono pronta, non vedo l'ora. She's ready, she's ready, she can't wait. Wait, Kelly, 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 Kelly. Però, ragazzi, è arrivata una sorpresa, con questi ragazzi dell'Accademia che sono venuti a visitarci, io voglio che si presenti da solo, perché lui è stato invitato da un amico, un grande amico mio e suo. Chi è? Piero Chiambretti. Vieni, 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 però qui non è Chiambretti di cui abbiamo bisogno, bensì del nostro gigolò, del super gigolò, ragazzi. Ha detto e ha fatto ed è venuto a Budapest. Oggi lo mettiamo in mezzo il gigolò, lo mettiamo in mezzo, ragazzi? Gigolò, si è andato in televisione e hai detto che quante ore? Quante ore tu lì? Un'ora, un'ora e mezza. Ma che cazzo, un'ora e mezza, mi facciamo un'ora e mezza per eliminare i casi. No, tu, da Chiabretti hai detto un po' di più, dai. Ah, va bene, ne faccio 5-6. Eh, cazzo, 5-6, ma io una può durare, alla seconda sono morto. Invece lui 5-6. Quindi può durare 5-6 volte? No, Kelly! Non, no. Ma guardalo, guardalo. Ragazzi, oggi scena epica, non vediamo l'ora. È venuto anche il nostro amico Gigolò a trovarci. Tanti amici, tanti ragazzi, ci divertiremo, ok? Eh, Marena? Amore, solo amore, si fa solo amore. Ciao ragazzi.